salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi sto portando l'apsan zino mini pro a fare un test e il test che faremo oggi riguarda una delle funzioni più interessanti che ha questo drone che fa parte di quelle funzioni che potrebbe far scegliere l'apsan zino pro piuttosto che dji mini 2 e la funzione che proveremo oggi è l'active track questa funzione che a dji mini 2 manca e manca anche da applicazioni di terze parti e la prova che faremo oggi la faremo seguendo la bicicletta anche perché questo drone ha un'altra cosa interessante che sono i sensori anti collisione che lo rendono sicuramente un drone molto più sicuro se si utilizza l'active track quindi queste due combinazioni di funzioni active track e sensori anti collisione secondo me insieme diventano un'accoppiata molto molto interessante ovviamente i sensori di collisione di questo drone non hanno l'aggiramento degli ostacoli però è già un qualcosa quando si utilizza l'active track avere la sicurezza che il drone non vada a schiantarsi contro a niente l'active track lo faremo facendomi seguire sulla bicicletta quindi l'active track un pochino più impegnativo rispetto a quello che l'active track quando stiamo camminando anche se ovviamente stiamo parlando di passeggiata turistica in bicicletta però alla fine è quello per cui è fatto questo drone se dovete acquistare un drone per farvi seguire con l'active track e in situazioni più estreme ovviamente dji air 2s o dji air 2 non probabilmente l'app san zino mini pro però questa funzione active track diciamo che sicuramente una di quelle cose che potrebbe fare decidere ad un possibile acquirente di droni se acquistare dji ai mini 2 o ab san zino mini pro quindi ragazzi direi di non perdere il suo tempo e andiamo a a provare questo active track di habsan zino mini pro vediamo ci tenevo a fare una precisazione prima che iniziamo il test che questo piccolo drone per poter fare l'active track e questo lo fa anche il film ix 8 mini abbassa la risoluzione nel ritorno video e abbassa anche la risoluzione del 4k nel senso che il 4k io adesso ce l'ho impostato a 100 megabit per secondo come bitrate mentre con l'active track attivato il 4k diventerà di circa 30 35 megabit per secondo quindi scende drasticamente questo perché il processore non riesce a gestire l'active track e la qualità video perché comunque il drone è piccolo di dimensioni processore di conseguenza è piccolo è tutto tutto in proporzione quindi diventa davvero difficile per lui mantenere qualità e anche active track e una cosa che dovrò provare è se questa cosa succede anche abbassando la risoluzione o se solo con il 4k se anche abbassando la risoluzione il bitrate scende o se invece questo limite lo abbiamo solo con il 4k questo poi lo proverò prossimamente però è una cosa che ci tenevo a sottolineare appunto questo particolare perché è un particolare importante e che poi vedrete ovviamente anche voi quando adesso vedrete il test però adesso è ora di iniziare allora per prima cosa io proverei il sensore anticollisione e vedere come si comportano quindi proveremo ad andare contro che ne so a questo grano turco o magari a qualche albero giusto per vedere il suo comportamento dal punto di vista del rinnovamento degli ostacoli e poi proveremo l'active track facendomi seguire mentre vado con la mia e bike ovviamente passeggiata turistica cioè niente di estremo perché come io ho detto lui non aggira gli ostacoli ma si ferma se vede un ostacolo che già qualcosa dal punto di vista della sicurezza e delle salvaguardare il drone quindi per prima cosa proviamo i sensori anticollisione e poi active track perfetto ragazzi l'app san zino mini pro e qua fermo in hovering come vi ho detto adesso test sensori anticollisione e poi active track quindi andiamo ad attivare i sensori anticollisione cliccando il simbolino a sinistra del display rilevamento degli ostacoli è attivato quindi adesso lui dovrebbe rilevare gli ostacoli quindi andremo contro a quel grano turco prima con quelli anteriori e poi faremo la prova con quelli posteriori quindi adesso a tutto gas contro al grano turco 321 via avete visto che si è fermato io c'ho il gas al massimo il drone si è fermato quindi torniamo indietro adesso non arriva perché mi vede a me vede la bicicletta quindi li vado a disattivare un attimo e vengo indietro altrimenti non viene indietro perché vede sia me che la bicicletta allora a questo punto li ho riattivati e vado a dare gas all'indietro quindi via perfetto vedete io ho lo stick in giù e lui si è fermato ovviamente con quelli posteriori si ferma prima perché la velocità del drone anche al massimo è più bassa quindi ha più tempo di fermarsi mentre con quelli anteriori ovviamente se si dà gas al massimo il drone va molto più veloce e si ferma più vicino a quello che l'oggetto o quello che è la struttura che lui rileva però l'importante è che si fermi poi se si ferma a un metro si ferma due metri l'importante è che si fermi però avete visto che adesso siamo circa due metri dal grano turco con quelli posteriori mentre secondo me con quelli anteriori eravamo circa a un metro adesso vengo verso di me vediamo se con quelle anteriore mi rileva vedete che si è fermato io c'ho il gas su e non viene più avanti quindi vado a disattivarli perfetto e rifacciamo la prova giusto per avere due tentativi e avere più informazioni su come funzionano questi sensori anti collisione quindi vado a riattivarli vedete che comunque semplicissimo attivarli disattivarli dall'interfaccia dell'applicazione la schermata principale e vado a dare gas quindi 3 2 1 gas stick in avanti gas e vedete che si è fermato è lui adesso è la fermo anche suonando bippando e quindi secondo me questi sensori anti collisione funzionano bene funzionano bene è ovviamente li avevo già testati non è questo il primo test che gli faccio perché ho già detto in altri video in cui ho portato questo drone lo sto provando lo sto provando tanto prima di fare una recensione completa perché ci tengo a provarlo sotto tanti aspetti il test di oggi lo sto facendo con l'ultimo firmware disponibile in questo momento che il 7 di settembre che è l'1.2.9 quindi questo firmware che sto utilizzando io in questo momento una cosa che volevo sottolineare che di fronte a me c'è un sole forte e avete visto comunque che i sensori anti collisione funzionano bene anche con il sole perché tante volte i sensori anti collisione con il sole non funzionano benissimo invece avete visto che se io vengo verso di me e verso la bicicletta vedete che si è fermato io lo stick e ce l'ho su quindi secondo me i sensori sono promossi da questo punto di vista spero che hapsan introduca la possibilità di aggirare l'ostacolo non so se è possibile farlo perché comunque c'è una potenza di calcolo non da poco per fare questa cosa perché il calcolo deve essere velocissimo e sicuramente il processore che c'è all'interno di questo drone non può essere paragonabile a droni più importanti a livello di dimensioni e peso però io spero che sia una cosa che si possa fare anche se non credo però non si sa mai però intanto mi accontento anche di questi sensori anti collisione che sicuramente diventano utili ma molto utili con l'active track perché comunque non possiamo noi ogni secondo stare con la testa girata a vedere cosa succede al drone o cosa sta succedendo al drone mentre ci sta seguendo mentre sappiamo che dovesse succedere qualcosa il drone si ferma ovviamente sentiamo che il rumore si sta allontanando da noi perché il drone è fermo e allora quel punto ci fermiamo che come ho detto comunque non è per situazioni estreme ma per active track un po più easy cioè passeggiata turistica corsa e via dicendo a questo punto direi che è arrivato il momento di provare la funzione più interessante se fatta bene cioè l'active tracker se è fatta bene è una funzione davvero che vale vale tantissimo però deve essere fatta come si deve allora per attivare l'active track è semplice basta cliccare sul simbolo a in alto a sinistra quello delle dei voli automatici per intenderci dove ci sono tante possibilità che poi vedremo anche in futuro le altre funzioni che ha questo drone perché anche i point a alcuni voli automatici a tante tante cose quindi le vedremo in futuro certe non sono ancora totalmente funzionanti però vedremo anche quelle però quella che ci interessa oggi questa modalità di seguito abbiamo due possibilità active track cioè il drone con la videocamera ci aggancia ci tiene agganciati quindi continua a seguire il soggetto e poi abbiamo la possibilità invece di seguimi cioè un follow me in cui il drone riceve il segnale gps del nostro smartphone e tiene agganciato quello quindi la telecamera inquadra un'inquadratura fissa che gli abbiamo preimpostato ma inquadra sempre quel punto quindi molto probabilmente il soggetto viene perso ma il drone rimarrà sempre sempre vicino a noi perché segue il gps del drone però questa funzione ovviamente passa un po in secondo piano quello che ci interessa è questa traccia attiva quindi ci clicchiamo bisogna andare ad un'altezza di 5 metri altrimenti il drone non attiva questa funzione perfetto vado ad inquadrarmi perfetto vado a riselezionare perché adesso sono ad un'altezza di 5 metri quindi vi diciamo che abbiamo capito andiamo a selezionare con un rettangolo noi e la bicicletta o solo la bicicletta solo noi con la bicicletta da sola un po difficile che possa andare quindi selezioniamo il tutto e facciamo go perfetto l'app san zino mini pro è qui e dietro di me e non ci resta che partire e vediamo come fa questa funzione active track il drone sta arrivando vediamo io sto andando alla velocità di 15 km orari anche perché sono in un diciamo in una strada di campo il drone sta arrivando e sta un po allontanando ma sta arrivando si sta mi sta tenendo penso inquadrato si è sempre dietro di me anche se non mi sta vicinissimo devo dire che sia un po allontanato ha anche il sole contro è e questa cosa non aiuta l'active track avere il sole contro alla telecamera perché comunque la telecamera che deve tenermi inquadrato e il sole contro non aiuta mai gli active track vediamo poi dopo proviamo a venire anche in senso contrario della strada a vedere se il drone sta più vicino a me vediamo se è una questione solo di solo se sta lontano ma però sta arrivando è lontano ma arriva vediamo adesso entro in questo campo vediamo cosa fa mi ha perso è devo dire che mi ha perso se assolutamente mi ha perso non so se questione di sole contro perché c'è la proprio frontale alla videocamera perfetto vado a riagganciarmi ok adesso sono inquadrato gli diamo il go e vediamo come si comporta adesso che il sole non è più direttamente nella videocamera ma è direttamente in questa videocamera quindi magari voi mi vedete un po strano però il drone non ha più il sole che lo acceca quindi vediamo il suo comportamento adesso arriva sta arrivando se va molto meglio sto andando anche più veloce adesso sto andando ad una velocità di 20 chilometri orari e il drone sta arrivando quello che invece prima si stava perdendo dietro di me perché comunque il sole accecava la videocamera è una cosa che immaginavo ma questo succede a tutti i i droni anche quelli più blasonati comunque nell'active tracker se c'è il sole contro soprattutto un sole così forte senza neanche una nuvoletta non aiuta vedete che invece adesso che il sole non è più puntato nella videocamera come lui mi tiene anche con velocità più alte sono arrivato anche a 20 chilometri all'ora come in questo momento freno vediamo eccolo e no devo dire che è cambiato completamente immaginavo per quello che ho voluto fare questa prova anche venendo nel senso opposto perché sapevo che era una cosa che poteva dare problemi la luce contro perfetto la prova quello farà adesso invece andare verso di lui e vedere come lui retrocede se retrocede o se sta fermo o se invece ha comunque anche la retromarcia quando facciamo l'active track verso di lui e quindi voglio provare a fare anche questa prova anche perché il sole adesso andando così indietro non dovrebbe dargli particolarmente fastidio e vediamo allora pronti via vediamo si va si va indietro va indietro ovviamente tende a spostarsi sul fianco come fanno tutti fa così anche le dji air 2 perché si sposta gira intorno al soggetto per poi riagganciarlo da dietro ok ho potuto fare poco questa prova perché si è attivata la modalità ritorno a casa perché comunque le batterie sono finite perché comunque l'ho utilizzato anche ovviamente dei pezzi che non avete visto però penso che quello che si è visto sia abbastanza perfetto è arrivato diciamo che abbiamo provato però il ritorno a casa con quando le batterie sono esaurite lui quando va sotto il 25 per cento di batteria attiva ritorno a casa di default sono con questa percentuale quindi lui ha deciso di ritornare e ha fatto bene diciamo che vedete che abbiamo solo un led qua dietro acceso non penso che lo vedi altro perché c'è troppa luce fa niente ve lo dico io c'è un led con l'active track attivato ovviamente vuol dire che siamo in movimento quindi potremmo partire da un determinato punto per arrivare ad un altro se succede qualcosa lui cosa fa il return to home dove siamo noi o torna da dove è partito perché queste diciamo possibilità dj ce le dà ok qua non abbiamo meno io non le ho trovate nell'applicazione queste funzioni di poter scegliere dove far atterrare il drone che normalmente è sempre il punto di partenza però con l'active track attivato è una cosa importante che il drone atterri dove siamo noi e non da dove si è decollati perché comunque io attualmente nel nell'applicazione non ho trovato la possibilità di scegliere dove fare il ritorno a casa quindi ragazzi cosa dire di queste due funzioni che abbiamo provato oggi sensori anti collisione e active track cioè con la videocamera che ci tiene inquadrato sensori anti collisione secondo me perfetti avete visto contro questo grano turco funzionato benissimo si ferma circa a un metro con quelli anteriori circa due metri con quelli posteriori mentre per quanto riguarda altri track direi bene cioè con il sole contro mi stava lontano però mi teneva agganciato anche se tendeva a stare lontano secondo me faceva fatica a calcolare dove ero dove ero lontano cioè perché comunque il sole nella videocamera lo manda in crisi come manda in crisi però qualsiasi drone con attivato l'active track se ce l'ha proprio puntato nella videocamera poi ovviamente con questi piccoli droni magari un po di più mentre quando ho fatto la prova al contrario appunto perché volevo vedere come si sarebbe comportato senza il sole contro avete visto come mi ha tenuto agganciato bene sono arrivato addirittura a 20 km orari mentre andando con il sole contro sono arrivato mi siamo intorno ai 13 14 km orari comunque lui già si stava allontanando poi quando abbiamo provato invece l'active track con la retromarcia quindi andagli incontro avete visto che lui è andato indietro poi a un certo punto ha girato quello che fanno anche i droni dj ai air 2 air 2s o mavic nel senso che vanno indietro poi a un certo punto tendono comunque a girare per poi a riagganciarti da dietro e non ovviamente continuare a seguirti a meno che stiate camminando piano loro a loro vanno indietro così ma sennò tendono sempre a riagganciarti da dietro nella maggior parte dei casi solo che mentre lo stava facendo sono finite le batterie perché ovviamente ho fatto anche un po di prove tutto durante la registrazione non è che il tempo che avete visto è il tempo solo quello del video c'è stato più tempo perso tanto tanto il drone fermo in hovering mentre registravo l'intro cioè tutte queste cose che ovviamente hanno fatto consumare batteria e con le impostazioni di default a 25 per cento di batteria attiva in automatico il return to home quindi ragazzi spero che questo mio video in cui vi ho portato la prova dei sensori anticollisione e la del active track e di questo absen zino mini pro con firmware 1.2.9 vi è piaciuto e vi è stato utile sapere questa informazione su come si comporta lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novità spoiler anteprime voli in fpv stampe 3d tantissime cose arrivano lì sempre se vi va iscrivetevi al mio canale 3g offerte per sostenere questo canale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere niente un video un volume l'accensione un test tutorial una novità ciao